Tra i gioielli della nostra provincia Este occupa senz'altro un posto di primissimo piano con le antiche mura medievali, lo splendido castello e il vivo ricordo di una civiltà romana che diede il nome all'antica a teste. Ma scavando ancora di più nella storia e spingendosi fin nella notte dei tempi a 3.000 anni fa, Este offre un tesoro davvero incommensurabile con i reperti paleoveneti esposti al Museo Nazionale a Testino. Ospitata tra le possenti mura del castello, l'eccezionale esposizione aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 offre all'interesse del visitatore 3.000 reperti a cui se ne devono aggiungere altri 7.000 archiviati e schedati nei magazzini. E qui, tra oggetti comuni, gioielli e statuette propiziatorie, si scoprono gli usi e i costumi dei nostri progenitori fin dal IX secolo a.C. Il nostro affascinante itinerario inizia con delle divinità che i romani poi adottarono in toto i lari, ovvero i protettori del focolare domestico qui riprodotti con la fisionomia dell'ariete. E sempre per la salvaguardia della famiglia, la statuetta bronza della dea Rettia, protettrice del cuore e la fecondità femminile. A cornice della tanto venerata Rettia, i classici e ancora attuali ex voto, tangibili e concreti ringraziamenti di giovani mamme paleovenete. Ma nelle case dei nostri avi c'era naturalmente tutto l'occorrente per i quotidiani lavori della massaia, dagli arnesi da cucina al vase lame per la conservazione dei cibi e ancora oggetti vezzosi per adornarsi come spille dalla originale fattura e per gli uomini armi e cinturoni. Come tutte le civiltà antiche, i paleoveneti avevano sviluppato un complesso culto della estrema dimora. All'interno delle tombe, che si possono ammirare al museo a testino, erano disposti interi corredi funebri. Gli oggetti tombali dovevano accompagnare il lungo viaggio senza ritorno dei defunti per tenere loro compagnia e farli sentire ancora a casa. Tra gli attrezzi di falegnami e cavalieri spicca al centro della sala principale il giocattolo di una bimba che i genitori non volevano lasciare nell'aldilà senza il suo passatempo preferito. La vita quotidiana è ancora il principale argomento delle incisioni bronze della situla Benvenuti, uno dei meglio conservati ossuari paleoveneti. Trascorrono i secoli si arriva nella seconda ala del museo dedicata alla romanizzazione dei colli euganei, alle sue monete e alle sue più significative testimonianze. Brillanti gioie, suppellettili e attrezzi per la tessitura, ecco tutto il corredo della matrona Nerca Trostiale. Finisce qui il nostro viaggio nei secoli tra le sale del museo a testino attraverso i reperti paleoveneti inestimabili tesori sottratti alla furia del tempo che donano vita ogni giorno alle nostre più recondite radici.